L'amore per i poveri è al centro del Vangelo e terra, case e lavoro sono diritti sacri. Papa Francesco lo ha ribadito con forza in un lungo discorso pronunciato nell'Aula Vecchia del Sinodo, dove si sono incontrati i rappresentanti dei movimenti popolari di tutto il mondo. A campesinos, minatori, venditori ambulanti e cartoneros, il Papa ha ricordato che la solidarietà che i loro movimenti propongono si trova ad affrontare gli effetti distruttivi dell'impero del denaro. Ed ha sottolineato che non si vince lo scandalo della povertà promuovendo strategie di contenimento che solamente convertono i poveri in esseri domestici e inoffensivi. Chi riduce i poveri alla passività, ha detto, Gesù li chiamerebbe ipocriti. È strano, ha aggiunto Papa Francesco, ma quando parlo di queste cose, per qualcuno sembra che il Papa sia comunista. Non si capisce che l'amore per i poveri è al centro del Vangelo. Il Pontefice ha poi ricordato che sta preparando un'enciclica sull'ecologia nella quale le preoccupazioni dei movimenti popolari saranno presenti e li ha esortati a cambiare il sistema economico, costruendo strutture sociali alternative. Bisogna superare l'assistenzialismo paternalista per avere pace e giustizia, ha proseguito, creando nuove forme di partecipazione che includano i movimenti popolari. Nessuna famiglia senza casa è stato il suo vibrante appello finale, nessun campesino senza terra, nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona senza la dignità che dà il lavoro. Grazie a tutti.